Salve, sono Roberto Roppetta, ex giornalista della RAI. Oggi qui a Piazza Severi sta piovendo e quindi dobbiamo ringuignare a martedì 20 la presentazione del mio libro che si intitola Sguardi Moderni sull'antica Roma. L'appuntamento di oggi era previsto alle 17.30 e così sarà a martedì, sempre in piazza Umberto I. Ripeto, alle 17.30. Il libro è un libro di storia come altri che ho scritto negli ultimi anni. Si parte da Romolo, si arriva a Sant'Agostino, al centro grandi personaggi universali come i fratelli Gracchi, Catilina, Giulio Cestere, Augusto, il fondatore dell'Impero. Sono una grande carellata per rappresentare l'epopea della grande Roma ma anche coniugarla con questo momento smanioso della città eterna che è sempre meno importante dal punto di vista anche sociale e dal punto di vista anche urbanistico. Sono molto contento di presentare qui a Pesca Seroli questo mio nuovo libro, l'ottavo della serie anche perché io considero Pesca Seroli la mia seconda patria. Pensate che ho casa qui dal 1984 e proprio in quel 1984 io ho scritto e pubblicato il mio primo libro. Vi aspetto numerosi martedì alle 17.30 in Piazza Umberdo I. In caso di pioggia andremo all'attenso scrittura che si trova presso il campo di calcio. Grazie a tutti.